Veruca, raccontaci tutto. Veruca, scatisci il tuo nome, per favore. V-E-R-U-C-A. Veruca Solt. Appena la mia piccola Veruca mi ha detto che voleva uno di quei biglietti d'oro, ho comprato tutte le tavolette Wonka che ho trovato in giro. A migliaia. Centinaia di migliaia. Io sono nel campo delle noci, così ho detto alle mie operaie. Signore, da questo momento smettete di scusciare noci e scusciate la carta di queste tavolette di cioccolato. Dopo tre giorni ancora niente, è stato terribile. La mia piccola Veruca era sempre più sconvolta. Dov'è il mio biglietto d'oro? Io voglio il mio biglietto d'oro! Beh, signori, era un tormento per me vedere la mia bambina infelice. Avevo giurato a me stesso di riuscire a darle quello che voleva. E finalmente ho trovato il biglietto. Papà, io voglio un altro polo. E' anche peggio del bambino porcello. Non credo che sia giusto. Non è stata lei a trovarlo. Non preoccuparti, Charlie. Quell'uomo ha viziato sua figlia. E non è mai un bene viziare una ragazzina in quel modo? Grazie. Grazie. Grazie.